Gli ex ragazzi dello SPICGL e i ragazzi con fragilità sui campi di bocce per una giornata di sport, divertimento, inclusione. Un'iniziativa che è partita alcuni anni fa dal regionale nostro e che per la prima volta l'anno scorso l'abbiamo proposta anche a Sondrio, eravamo in quel di Faedo. Quest'anno l'abbiamo riproposta con una modalità un po' diversa, nel senso che anziché fare la gara a coppia per questi ragazzi che gli piace, sono contenti, lo facciamo per loro soprattutto, facciamo una gara materna. L'abbiamo intitolata perché questo è il titolo nazionale 1 più 1 uguale 3 che sta a significare la coesione sociale, la parte che interessa più nello specifico a noi. Finita la manifestazione, sperando che tutti siano contenti, andremo a mangiare e finiamo la giornata così. Sempre con la volontà di dedicare un po' di tempo, risorse e spazio a questi ragazzi che credo ne abbiano veramente bisogno. Per i ragazzi una mattinata differente, 1 più 1 uguale 3 potrebbe essere anche uno slogan sociale significativo per tutti. 1 più 1 uguale 3 vuol dire uno dello SPI, che è anche bravo a giocare a bocce, con uno dei nostri ragazzi che seguiamo in CPS. Sembra che 1 più 1 debba fare 1 e mezzo, invece no, fa proprio 3. Lo dimostra il fatto che alcune volte ci stupiscono i nostri ragazzi, i nostri pazienti, nel giocare alle bocce, soprattutto, e sono fortissimi. I nostri ragazzi sono dei ragazzi con delle difficoltà, in particolare più sul piano psichico, che però assolutamente colgono queste occasioni come veramente un'occasione da vivere. Noi abbiamo già, da parte nostra, siamo aperti al pubblico come ristorante e quindi loro hanno già molte occasioni, ma questo li porta a conoscere altre persone. L'esperienza è anche quel momento di competitività che comunque non fa male, perché poi si trovano anche a sbagliare, quindi a perdere e quindi sono tutte cose stimolanti. Questa è veramente organizzata in questo modo, l'anno scorso è stata la prima occasione di incontrarci, il fatto di averla organizzata qua è veramente un momento veramente magico per loro.